Piccolo Mondo Garden è un po' variegato, diciamo, è polifunzionale. Abbiamo ecco una terrazza, per vedere, tempo permettendo. Anche in caso di brutto tempo abbiamo comunque una copertura con un gazebo a pagoda, apribile e chiudibile, con le ventilazioni praticamente. E poi abbiamo a disposizione una cosa, una chicca, diciamo ecco, e abbiamo questa piscina a disposizione dove sarà in completo relax e quindi ci sarà sempre abbastanza tranquillità e riservatezza perché la piscina è privata, quindi è a disposizione per i nostri ospiti sia al mattino, diciamo, dalle 9 in poi e anche a pomeriggio dalle 14 o 14.30 in poi. Una piscina privata con vicino un annesso, un fienile, un vecchio fienile ristrutturato dove possiamo fare cocktail aperitivi, happy hour o anche qualche cena di riguardo o cena di gala, per dire, per come, per qualsiasi diciamo richiesta, ecco, dei nostri ospiti e clienti. La novità di quest'anno che abbiamo inserito, il venerdì sera ci sarà sempre comunque la serata dedicata al, diciamo, alla musica, la musica o musica e spettacolo anni 70, 80 e 90 oppure musica a 360 gradi con un corpo di ballerini di ballo che coinvolgono con gruppi, diciamo, musicali e ballerini che intrattengono la serata, praticamente. Settimanalmente mettiamo in onda su Facebook o sul sito web, sul nostro sito piccolomondoonline.it il programma, praticamente, della settimana. Comunque il prossimo evento sarà il ferragosto che ci sarà praticamente piscina mattino, pranzo al giorno e con un menù dedicato e un prezzo popolare e poi pomeriggio piscina e anche alla sera ci sarà praticamente il menù dedicato o alla carta alla sera e sarà agliettato anche con della musica tutto il giorno.